Restituire alla società civile i beni confiscati alla criminalità organizzata, un impegno sempre più mirato, efficiente, rivolto al sociale. Bruno Corda, il nuovo direttore dell'agenzia, ha tracciato un bilancio dell'attività svolta. Le prime difficoltà che l'amministrazione pubblica riscontra sono lo stato di conservazione dei beni. Molto spesso ci vengono consegnati in modo deteriorato, fortemente deteriorato. Il merito alle aziende riuscire a farle uscire dall'illegalità è il problema più grave. Molto spesso si tratta di aziende che hanno del personale che è stato assunto in nero e quindi non ha avuto il pagamento dei contributi, oppure ancora che non hanno problemi di accesso al credito in quanto servivano magari per il riciclaggio del danaro di lecita provenienza. Destinati fino a questo momento sono 436 beni immobili e 57 aziende. Quest'anno è stato possibile per gli enti del terzo settore richiedere i beni sequestrati direttamente. Che vuol dire che c'è stata una bella risposta da parte del mondo del sociale a questa esigenza. Adesso le domande verranno esaminate perché non si tratta di domanda semplice, in realtà si tratta di progetti per meglio dire. Cioè un qualche cosa nella quale si vede la proiezione, quello che si vorrà fare di questi beni.